De Fingler, quali qualità deve avere uno chef per essere bravo all'altezza della situazione? Tante qualità, ma tante qualità semplici come tanti ingredienti che compongono un piatto, una ricetta. Quattro o cinque qualità importanti che lo creano, lo formano e che sono un po' la sua esperienza. Ho portato la mia cucina italiana, la cucina dei grandi prodotti del territorio che adesso rispecchia come Rotok di cui sono presidente. Sì, alcuni piatti c'erano, alcuni piatti anche italiani importanti come il risotto che faccio qua questa sera che appunto è dedicato alla Regina Vittoria e a un bellissimo nedos dietro.